Signori, belle mie, benvenuti. Allora, siamo su The Forest e lo so che l'ho portato in live il primo episodio, infatti è un estratto di live, questo non lo è, però non vi preoccupate, è sempre Sky Capo Bianco che vi parla. Bene, allora, che cosa è successo? Allora, io ho rifatto un'altra partita. Perché? Perché su The Forest non è... diciamo c'è un'intelligenza artificiale talmente ben fatta che in base al comportamento che noi utilizziamo con gli indigeni potrebbe definire i problemi che andremo a trovare. Cioè, nel senso, se noi ci comportiamo bene e non facciamo i brutti figli di puttana, ci troviamo praticamente meglio, almeno nelle prime fasi. Infatti, molte volte qua gli indigeni sono venuti e controllano, diciamo, quella che è la mia casa e poi se ne vanno. Intanto vi faccio un riepilogo della situazione. Allora, noi nell'ultimo episodio ci eravamo salutati, abbiamo esplorato un po' di robe, avevamo fatto un accampamento in spiaggia con i ragazzi, qua sono in giocatore singolo, quindi sarò soltanto io e il bro. Eccolo qua, è il nostro bro, che poi tra l'altro ho fatto caso che quando noi lo rianimiamo, lui è praticamente sordo. Vedete che perde sangue dalle orecchie, motivo per cui... Oddio, ma che cazzo è successo? Oddio! Minchia, se gli indigeni vedono una roba del genere sono finito. Brucia sta roba, ma vi giuro che io non so niente. Tanti dettagli, raga, mamma mia che dettagli. Comunque, a parte sto gioco davvero una grafica incredibile, la situazione qual è? Nell'ultimo episodio, quindi, eravamo usciti da una grotta, avevamo ottenuto varie cose, tipo la torcia, così. Io attualmente non ho la torcia, però mi sono procurato, qua c'ho della carne bruciata, Vaffanculo, ho il crocifisso, ho trovato questa... un bastone straordinario, beh, il taser, praticamente. Poi non abbiamo granché che io sa... Ah, è il coso che l'avevamo trovato pure lì, penso, per fare le... Cioè, pure nell'episodio precedente, se non sbaglio. In ogni caso, questo coso vi permette di creare una fune, tipo questa, dove voi potete salire e scendere a vostro piacimento. Quindi questa è la situazione. Adesso vi faccio vedere quello che è il mio avamposto. Qui è dove praticamente sono spawnato. Intanto possiamo riaprire di nuovo gli oggetti che noi ci fottiamo. Vedi qua, vi rifornite di barrette, queste cose. Per cui ho pensato che era una buona idea, relativamente, mettersi nei dintorni del vostro schianto con l'elicottero. Perché comunque, quando queste cose spawnano, avete comunque un modo di procurarvi C4, granate, barrette energetiche. Cose comunque che solo si trovano nelle caverne, comunque negli accampamenti. Sicuramente non crescono negli alberi le C4, ecco, ma per intenderci. Quindi, vicino a casa mia, come vedete, c'è questa struttura che ho costruito. Ho pure le medicina, godo. Che ho costruito questa struttura che serve solo per o trasportare legna che taglierò in questa zona qui, in modo che non mi tolgo, diciamo, il riparo di casa mia. Qua arrivo a casa mia dove ho fatto due casette per gli uccelli che mi procurano piume. Qua c'è il bro, vicino al falò, una panchinetta, due siccatoi qua dove metto il mio cibo. Devo bere, madonna. Incredibile. Ho scoperto che finalmente posso settarmi varie cose con i tasti. Per esempio, con uno, con due, con tre, prendo le varie cose. Qua ci ho messo il tavolino, ma lo devo togliere. Questo qui poi lo distruggo. Questa qui è casa mia, vi faccio vedere. Qua ci ho coltivato una piantina. Questa è la mazza del diavolo, se non sbaglio. Si entra qui dove c'è. Ma mi hanno fottuto cose, raga. Qua c'erano due armadi. Tra l'altro tutte le mie scorte di cibo erano su quell'armadio. Su quello scaffale. Ma saranno entrati i geni, ti rubano le cose. Eh, può essere, eh. Vabbè, qua sopra comunque c'ho le scorte di legno. Che due coglioni, raga. Troppa male sta cosa. Questo cadavere non c'era. Io qua, come vedete, ho piazzato una trappola. Che volevo, porca di quella brutta, che volevo piazzare per vedere se funzionasse. Voglio man mano spargere trappole qua nei dittorni in modo da proteggermi da eventuali indigeni curiosi, ecco. Comunque, in questo episodio io volevo costruire un ponte, come vedete. Stavo provando a costruire un ponte. Quindi quello che farò adesso è dedicarvi un pochino alla costruzione del ponte. E poi penso andare in esplorazione per vedere cosa possiamo trovare. Allora, quello che vorrei fare io per adesso è cercare di rifinire il ponte. Quindi vado dal bro e gli dico di raccogliere dei tronchi. Allora, tu devi recuperare dei tronchi e darli a me. Ci uscrivo perché se no non capisci un cazzo. Ok? Ah, posto, bravo bro. Detto questo... Io non mi ricordo, ragazze, per fare ricrescere un albero bisognava togliere anche il ceppo. Eh, cosa ho fatto uso? Oppure no? Vabbè, lui nel frattempo raccogliere... O se, butta un albero verso la casa, minchia, lo uccido, ragà. Veramente, lo uccido male. Lo rialziamo così. Perfetto. Voglio... Oddio, ho preso il cervo! Dio, ma qua è pieno di cervi, ragà. Ma sta cosa è geniale. Guarda quanto cibo riesco a procurare. Guarda il bro come mi butta il tronco in faccia. E poi qui vado a posare la carne, in modo che non la vado a sprecare. Questa è carne bruciata, ma non si può buttare, Dio mio. Eh, per forza la devo mangiare. Vaffa, vaffa. Ma mi refullo un po'. Certo, fa schifo al cazzo, però sì, mi refullo. Più noi manteniamo una situazione di pace, e più comunque stiamo bene a livello di problemi, ecco. Quindi con gli indigeni più manteniamo la pace, significa non attaccarli quando li vediamo. E loro ti studiano, ma in teoria si dividono in diverse tribù. Per esempio i grigi o i mutanti, quelli che trovi nelle grotte, per esempio. Quelli lì sono molto più aggressivi. Però ci sono indigeni e... Eccolo. Lì ce n'è uno, vediamo se riesce. Ecco, noi abbiamo appena attivato la trappola. Ecco, diciamo che stiamo dando fuoco alla foresta. Non penso sia ben vista sta cosa. Ma quindi sta cosa si riattiva senza rimettere la bottiglia. E oppi come roba. Lo so che ho la scorta lì e non la sto prendendo, ma perché voglio risparmiarle e voglio prendermeli. Senza sprecare la mia personale scorta. Minchia, il bello che gli sto facendo troppe cazzate. Vedete come ci osservano così, ma... Vogliono solo capire cosa vogliamo. Vedete? Io... Putto pure l'arba e poi se ne va. Ci studiano. Verranno spesso perché sanno che siamo qua. Però se noi abbiamo un buon modo di trattarli, loro non romperanno i coglioni più di tanto. Almeno loro, perché sono quelli più intelligenti. Tipo i cannibali. Quali lì, insomma, tutti secchi, nudi. Questa ragazza qui, in teoria, la possiamo pure reclutare. Lei per adesso è impaurita, però... Man mano che non gli facciamo niente, penso si inizierà a fidare di noi fino al punto di farsi reclutare. Possiamo equipaggiargli un'arma a lei e proprio utilizzarla come... un'amica che combatte. Questa cosa è una figata quando si gioca in singolo perché ti dà la possibilità di non essere proprio da solo. Comunque avere delle NPC che ti aiutano. E siccome l'intelligenza artificiale di The Forest è veramente fatta bene, questa cosa ne vale la pena. Un pesce. Eccolo. Eh no. Troppo... Oh, oh. Preso. E di qua qual è il vantaggio di questo posto? Faccio vedere pure dove sono nella mappa, così se qualcuno di voi vuole mettersi qui... Non so se riuscite a riconoscere la zona. Io più di questo non posso fare manco io solo tutta la mappa. Va bene, io direi che possiamo andare a dormire, raga. Buongiorno, buongiorno. Perfetto. A questo punto io direi di fare una bella colazione da leoni. Intanto mettiamo un pesce qui ad essiccare. Ci mangiamo un pesce. Perfetto. Lei di nuovo viene qua. Speriamo che non rompano i coglioni poi i cannibali. Beviamo un po' d'acqua. Aspetta, mi sa che devo levare l'arancia perché sennò pensa di cacciare un predatore, il nostro personaggio, un predatore. Ecco. No. Va bene così. Perfetto. Poi quando ci prendiamo l'ascia, vedi, io posso fare così e creare dei paletti acuminati verso la direzione. Di conseguenza, questi cosi pungono parecchio. Guardate. Vedete? Quindi avremo quella difesa in più alle mura. Sappiamo che da questo lato, se non dal ponte, è inaccessibile. Certo, è un progetto lungo da fare. Non è una roba che si fa subito. Però sicuramente ha il suo perché e io ho appena preso un cervo davanti ai miei occhi. Porca puttana. Abbiamo tutto il controllo della situazione qua. Abbiamo cibo, abbiamo tutto ciò che si serve. Perfetto. Va bene. Il bro... Aspetta che gli dico di... Un attimo. Però come me li butta? Eh, non vedo un cazzo se c'è il tronco di mezzo. Ok, recupera i tronchi e lascia qui. Ok, lui adesso si metterà a raccogliere e noi partiamo in esplorazione. Allora, l'ultima volta sono andato qua seguendo il sentiero, proprio davanti a noi, ma non ho fatto molta strada. Oggi voglio andare in uno di questi punti viola per vedere un pochino com'è la situazione. Quindi io mi incammino se non c'è nessuna novità vi taglio tutto. Comunque sarà un lungo viaggio. Insomma, sarà un po' un arrottore di cazzo. Più che altro voglio partire in esplorazione per il semplice fatto che se avessimo un'ascia o una motosega addirittura sempre se c'è nel gioco sarebbe una cosa fantastica. In più voglio anche sbrigarmi a fare determinate cose perché ci sono piccoli glitch che se ho la possibilità in questo episodio vi faccio vedere piccoli glitch che prima che aggiorneranno il gioco fra tre giorni se non sbaglio c'era scritto nella schermata doma non mi ricordo quanto manca nel menu principale non so quanto manca ma quando aggiorneranno il gioco guarda che bello sto posto probabilmente molte cose che fate adesso poi non si potranno più fare quindi è meglio approfittarne ora prima che fixino varie fixino varie cose questi sono i mirtili che possiamo sempre mangiare io prendo un po' di tutto le piante le cose anche per avere semi mi dispiace che a differenza di The Forest 1 non ci sia il coso per piantare i semi allora sul ping quello lì che lampeggia ci sono già andato e lì c'è una tomba se non sbaglio dove occorre avere una pala che noi non abbiamo quindi è inutile andarci mancano tante cose di costruzione manca per esempio il fatto che ti potevi fare l'orto a tua grandezza e coltivare le piantine qua hanno fatto tipo dei vasi per piantarci le cose ma porca puttana mi sono cagato noi avanziamo così tranquillamente adesso lui mi seguirà cioè vedete raga l'intelligenza artificiale cioè è fantastica una roba del genere raga e ma dove la vedi guardate che bello raga quello che ci circonda è fantastico questo gioco raga c'è poco da dire i figli della foresta si e poi li auge allora vediamo allora qua intanto sto raccogliendo tutte piante velenose vedi quando ti compare il rosso si cae le ho già assaggiate e non è commestibile che sia per il veleno che sia semplicemente perché fa cagare ci hanno visti in una zona dove noi non dovremmo essere non dovremmo essere perché ovunque nel gioco troviamo questi segnali quindi tracce di altra gente che è stato qui in questo caso c'è della stoffa ci sono dei cadaveri impalati tra l'altro della nostra compagnia e vedi ci sono teschi osse comunque si vede qua che è una zona vedete dove ci sono stati qua ci sono tra l'altro dei cadaveri oh cos'è una fionda e bisogna vedere a cosa serve vediamo entriamo su questa caverna attenzione però come spaccò tutto ah no ancora devo perfetto possiamo entrare bene facciamo questa esplorazione vediamo cosa riusciamo a trovare in questa caverna ok già non mi piace anche io non sono messo bene per esplorare le caverne ragazzi dico la verità non ho molta roba ho solo le medicine non ho armatura potrei farmi potrei farmi queste tre molotov se riesco eccoci graffiamo tre molotov giusto per così almeno abbiamo qualcosina in più devo anche vedere come sono messo la freccia sembra sembra tutto normale il cacarello improvviso cos'è cos'ho preso medicinali godoff sai che ti dico uno me lo sparo che non sono full di vita così non lasciamo niente mi sa che mi è rimasta una farfalla buggata nello zain bottiglia di molot cioè bottiglia di di alcol ho delle bibite queste ci ricaricano la stamina questo poverino sarei morto e comunque il nostro scopo su the forest è in teoria per come ho capito trovare persone scomparse che sono quelli lì che vediamo nel computer all'inizio quindi edward barbara e virginia e tra l'altro virginia eppure il mutante che c'è su forest 1 da qui è da dove siamo arrivati noi ah vi avviso già da ora che io sono pessimo nell'orientamento quindi io nelle caverne mi perderò tipo mille mila volte qua dove siamo questo è l'inizio noi poi abbiamo preso la fune per passare da quest'altro lato dove l'unica cosa che vedo è un lago io siamo entrati in acqua esci esci che non so ma che cazzo c'è qua qua arriva non c'è nulla eh no vabbè raga qua penso che per andare avanti ci serva non lo so una qualcosa per vedere sott'acqua e respirare quindi penso una muta da su oh cazzo mi hanno visto e ora ci studiano vabbè noi magari ci allontaniamo ci arriviamo dal cazzo facciamo capire che non abbiamo cattiva intenzione la gattina è incredibile ma comunque guarda come si sta aumentando il il vento che ti riesce a prendere però sto posto ragazzi ti riesce a prendere secondo me ancora il gioco prima dell'aggiornamento sarà proprio una questione di tipo una beta come se ancora non abbiamo visto nulla di quello che realmente può darci questo gioco e spero che sia così ok inizio a sentire tipo un segnalatore che aumenta un bip da questa direzione ma mi sa che è lì in cima vedo già qualcosa cos'ha una corda delle bottiglie devo oh mi butto così mi stocco le ginocchia ma sti cazzi andiamo piano piano aia ok ok una bottiglia un gps oh la torcia la torcia la torcia godo quindi ah poi una cosa molto importante da dirvi e non lo so se questa serie la farò in compagnia di di jackson o degli altri penso che la serie su youtube la farò per i fatti miei onestamente mi diverte di più vi dico la verità è bello giocare con amici però sono anche io un amante del solitario ecco però la continuerò comunque con i ragazzi o magari oppure se posso continuare la mia stessa partita e fare unire una persona che non penso però se si può fare va bene se no vi porterò anche qualche episodio di se mi va di registrarlo anche così vediamo penso non vi prometto niente ma voglio dire cose che poi non riesco a fare ma cosa mi piace qua cosa cosa abbiamo trovato cosa minchia è allora sta cosa non la posso guidare se rompo sto bordello succede qualcosa allora loro questi qui non so cosa cazzo sono però per come ho capito dato che nelle miniere ci sono tanti diciamo minatori che cercavano un tipo di materiale si deve scavare loro qua scavavano qualcosa questi qui pensi che sono dei rilevatori insomma di roba che serve a loro è un peccato perché queste zone pingate a sto punto sono soltanto punti dove possiamo scavare ok dopo 1200 anni siamo arrivati in spiaggia qui è dove avevamo fatto la casa la prima volta come degli indigeni di merda adesso invece andando di qui dovrebbe esserci la caverna e quindi vediamo cosa c'è dentro solo che è rischioso mi sparo tipo un salvataggio mi faccio un accampamento non so se farlo fuori o dentro la caverna penso lo penso fuori ci sta lo lasciamo lì spiaggia così per ricordarci comunque il gps oppi ah bello ci dice siamo al giorno 6 vedete raga io al giorno 6 ancora non sono stato attaccato da nessuno nessun indigeno ho ucciso per adesso a parte quelli nelle caverne che lì potete uccidere perché nessuno vi vede lo potete fare poi è necessario sono mutanti vi attaccano a vista non è questione di allora lì dove ci sono quei soldati impalati e dove di norma si atterra dove siamo atterrati noi nel primo episodio ecco vediamo se riesco se c'è comunque il relito dell'elicottero quindi così oppure scompare che sarebbe figo trovarlo no erano tutte cose sparpegliate qua quindi gli spawn diciamo l'elicottero lo trovi solo dove atterri non dove puoi atterrare anche perfetto l'accampamento ce l'abbiamo ci spariamo un salvataggio per sicurezza ed entriamo ecco io già non vedo un cazzo dobbiamo giocarcela nel miglior modo possibile se vogliamo sopravvivere munizioni calibro 9 peccato che manca proprio la pistola abbiamo trovato altre munizioni ah scusami ecco cazzo tra l'altro io pure la torcia volendo oh una bombola d'ossigeno ho una nota che non si vede cosa sai cosa si può significare che io non so un cazzo d'inglese quindi proprio un paio di cazzo oddio cosa sono i pipistrelli mamma mia suono di merda porco del suo Batman preferisco vedere e prepararmi a ciò che mi spetta che non vedere un cazzo oh qua c'è un salvagente forse prima l'acqua era più alta magari dio ecco guarda già guarda già guarda già come mi stanno rimbendo a pugni sono quattro persone lì come cazzo li faccio cioè capite che proprio difficile minchia ma poi quattro così insieme no c'è pure quello sti cazzi io me ne vado due di queste ma siete pazzi con le granate devo andarci qui no 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 troppo qui troppo qui spero che se li uccidiamo possiamo procurarci un po di armatura non è male oh dov'è oh capinchia quello ti one shot che due coglioni mi sta seguendo niente questa è la mia vita oddio mio ma la granata me l'ha sprecata ah non me l'ha sprecata anzi che culo allora raga qua il problema è semplice loro sono troppo e ci sono troppi nemici io non posso affrontarli così tutti insieme ci vuole non ho armature non ho modo io proprio andrei di granate raga qua dove li abbiamo visti dovrebbero essere tutti qui più a me allora quelli lì si possono anche affrontare il problema sono quegli altri da questi qui se ti pari riesci in qualche modo a pararti ok vedi uno l'abbiamo fatto che cazzo il problema è che non riesco mai a scrivarli bene ok due così a culo che cazzo è il terzo è buggato lì no ok un altro di loro che possiamo fare qua ci sono delle ossa una femmina rispetto all'ascia questo è ventimila volte meglio rispetto all'accetta che abbiamo inizialmente che fa cagare non vedo come un teschio possa fare più danno è più lento sicuramente però ne vale la pena abbiamo trovato pure dei pesci e ossa ossa che andrebbero sprecati altrimenti ma grazie a quest'ingegno qui no non serve questo cosa serve solo ah corda ok corda filo anonastro e osso quindi abbiamo noi mettiamo due nastri due corde poi mettiamo le ossa ci facciamo un bel po' di armature che dovrebbero essere in teoria più forti qua è un bordello ho una corda buona che l'abbiamo spiegata prima c'è una bottiglia che non mi fa raccogliere non so perché gambe potrebbero sempre servirci di arte per quanto riguarda bruciarli procurarci le ossa oppure cibo proprio nel cosa è nella merda qua ci sono delle lattine filo e qua c'è tipo un un coso un materassino quello per l'acqua un materassino gonfiabile qua ci sono altri arti però perché ci sono gli arti in riva a questo lago non è che c'è uno squalo dentro ossa stoffa cibo bevanda energetica buono scheda orologi oddio cos'è l'autorespiratore non ci credo possiamo andare sott'acqua eh no minchia ma io devo controllarla oddio no e lo dobbiamo far fuori se no un paio di cazzi che trovo in acqua io ok forse l'ho ucciso raga e oddio va bene qua è chiuso ma è impossibile che non ci sia nulla sott'acqua ti fanno trovare sta roba per andare sott'acqua mamma mia e ormai dobbiamo esplorarla sta cavia oh mamma mia che brutto è claustrofobico sto posto esploriamo esploriamo gli abissi della vita la porta con gli occhi ci potrà cogliere di sorpresa si ma siamo usciti però con l'autorespiratore possiamo andare sulla caverna di prima c'è a dire questo però questa caverna continuava minchia se è continuava raga sta caverna andava pure dall'altra parte allora facciamo una roba raga per questo episodio noi ci salutiamo qua io intanto devo se spegni sta torcia che è sprecatissima io mi riscaldo un po' io per questo episodio raga noi ci salutiamo qua io in vostra assenza cioè ora nel prossimo episodio andiamo a e riandare lì dall'altro lato dove ci siamo morti praticamente e poi andiamo sulla caverna che abbiamo visto prima di questa per vedere se sott'acqua si può andare e c'è qualcosa quindi mentre io mi scaldo noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao per le mie